Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo una lente di ingrandimento antica, risale intorno all'inizio del Novecento, probabilmente, ed è una lente che viene utilizzata per vedere delle fotografie, delle cartoline o delle fotografie. Avevamo la lente chiusa, la scatoletta chiusa, adesso l'apriamo e adesso poi vi spiegheremo come funziona il principio di utilizzazione. L'immagine da osservare, la cartolina, la fotografia, veniva inserita tra due pezzi di lente. Ecco qui vediamo la cartolina osservata attraverso la lente di ingrandimento. Il termine tecnico per individuare questo strumento, questo apparecchio, è grafoscopio. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per il prossimo nostro video. Grazie a tutti.